Era controllato da diversi giorni dalle forze dell'ordine per i suoi post filo criminalità organizzata sui social network e per un video sul suo profilo di un decapitamento da parte dell'ISIS. Ora è considerato un presunto terrorista ed è stato arrestato in attesa della convalida del giudice nella sua ambitazione di San Gennaro Vesuviano Diego Ottatimenna, 30 anni, titolare di un negozio di ferramenta nello stesso edificio dove risiedeva nel comune del Napoletano. I carabinieri hanno fatto irruzione nel suo appartamento rinvenendo 146 micce collegate a degli inneschi e alcuni telecomandi a distanza. Secondo il suo legale però l'avvocato Aniello Giuliano si trattava solo di fuochi d'artificio. Forniremo al magistrato elementi probatori, penso idonei per farlo scorcerare e quindi io credo che fino a domani io non posso dire niente perché ci sarà ancora questa udienza di convalida quindi altro non credo che sia corretto dire. Armi non c'erano, c'erano soltamente delle micce perché questo ragazzo a lobby fa il fuochista per hobby quindi non c'erano armi, non c'era niente, c'erano solamente queste micce, questi congegni che lui usava per fare i fuochi d'artificio. Tutto qua.